Ciao, 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 ciao Grazie di essere qui Oggi andiamo a fare un video che ogni tanto mi piace tantissimo portare Che è il, un bel get ready with me Con una buona dose di chiacchiere A me questi video rilassano tantissimo Sono una della mia tipologia di video ASMR In un ASMR da guardare Quindi mi piace anche tanto portarli su questo canale E oggi ho anche un po' di novità riguardanti anche voi Che coinvolgono anche voi Quindi cominciamo subito Io mi sono solo lavata il viso Quindi ho la pelle un po' tirata Perché ovviamente devo ancora idratarla per bene Questo è un tonico spray E' idratante Mi ci trovo benissimo E già la mia pelle sta decisamente meglio Allora partiamo con le novità E poi vi voglio chiedere anche un parere e consigli Per prima cosa Buon 2 dicembre Se mi state guardando appena è uscito il video Buon dicembre Buon inizio dell'avvento Inizio di questo mese Un po' più gioioso Un po' più di feste Pieno di lucine Insomma In cui spero comunque Non so che in un qualche modo Possiate assorbire dentro di voi Un po' della gioia del Natale Vi dico la verità Io sono Fino a pochi anni fa Ero completamente il cringe Non sopportavo Le persone che erano entusiaste del Natale Quindi Vi capisco Se siete il cringe Mi rispetto Per l'amore del cielo Io ho iniziato veramente Ad apprezzarlo Da quando vivo Con mio marito Quindi Posso capire Se la situazione Nella vostra vita Non vi Magari soddisfa Posso capire Che questo Che voi non capiate Anzi provate fastidio Per Un po' questo periodo Che per tutta la gioia Delle persone Quindi Non vi preoccupate Non vi giudica nessuno Però Intanto Mi metto Il contorno occhi Magari Questa notizia Vi Vi farà piacere Ho creato Il mio Calendare dell'avvento ASMR Come l'anno scorso E in cosa consiste Dove lo trovate Quando Isce È Un Diciamo così Progetto Per cui Ogni giorno Dal primo Al 24 di dicembre Uscirà Un contenuto ASMR Nuovo Esclusivo Quindi Se non L'avete Ancora Ascoltati Trovate Già Due Puntate E Lo trovate Esclusivamente Sul mio Podcast Che potete Ascoltare Su tutte le Piattaforme Podcast Appunto E Ok 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 E Lo troverete Solo 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 Lì Non Negli shorts Non su TikTok Non qui Su YouTube Solo Sul podcast Questo è un modo Per me Anche per farvi Conoscere Il podcast Sono sincera Per farvelo Apprezzare E per potervi Farvi Accedere Anche I contenuti Senza Magari Siete All'estero Avete Poco Internet So che per molti Il podcast È molto più Comodo Di YouTube Da Usare E da Ascoltare Quindi Anche per me Questo progetto Era molto più Semplice E fattibile Solo audio Quindi È stata un po' La soluzione migliore Per diversi motivi E spero davvero Vi piaccio Saranno Episodità 8 Parra 12 13 Minuti Ogni giorno Di mattina Appunto Escono Ogni mattina In modo che Vi ho postato Sobriane Sia di mattina Che di pomeriggio Che di sera Voglio intanto Usare Un siero idratante Questo L'ho preso In Corea Ha un Pack Molto Clean Molto Minimal C'è un aereo Un elicottero Che sta passando Vi giuro 10 minuti 10 minuti No 5 Ma Continua A starci Sampate Prima La più forte E Io spero Dove Questo Progetto Vi piaccia Se vi piace Anche lì Datemi un po' Di sostegno Lasciate Si possono lasciare I commenti Sotto il podcast Si possono lasciare Le recensioni Al podcast Se volete Condividete Gli episodi Insomma Se vi piace Come progetto Sostenetelo Perché È un progetto Qui tengo Tanto E che faccio Proprio Per voi E per darvi Anche se non siete Riusciti a comprare Un calendario Dell'avvento Se non volete Nulla di Materiali Insomma Per darvi Una sorpresina Una piccola Joy Ogni giorno Quindi Sì È un progetto Qui tengo Tanto E so che L'anno scorso Era stato Molto apprezzato Quindi L'anno scorso E di questo Calendario Dell'avvento Erano usciti Anche degli Shorts Quindi I video in verticale Che vedete Su Youtube Quelli brevi E su Tik Tok Ma quest'anno Ma veramente Mi aveva fatto Impazzire Come progetto E non ero Soddisfatta Della qualità Di questi contenuti Quindi Ho preferito Togliere tutto Il superpro E lasciare Gli audio Del podcast Che tra l'altro Quest'anno Non so Ho trovato Delle idee Che mi soddisfano Tantissima Quindi Non vedo l'ora Che ascoltiate Tutte le puntate Giorno per giorno Tipo la puntata Del 3 dicembre Quella di domani Per voi È troppo bella Non vedo l'ascoltiate Idratante Labbra Altra novità Importante È che Anche questa Mi è stata Chiesta D'auto Stanno per uscire Io spero di potervi dare Le date E Il link Ufficiale Se non O giovedì Quindi nel prossimo video O lunedì prossimo Unedì prossimo Dovrei Decisamente Riuscirci Ma forse Anche questo giovedì Stanno uscire Stanno uscendo Le date E i biglietti Per i prossimi eventi ASMR dal vivo Se ci penso Mi viene da piangere Perché è il mio Più grande sogno Il mio Più grande progetto Ed è Vi giuro Il primo evento ASMR dal vivo Che abbiamo fatto Io ho Quell'emozione Mi è durata una settimana C'è quel senso di Pienezza Del cuore La gioia Di quell'evento Mi è durata Per una settimana E mi rende felicissima Il fatto di poterlo rifare E ci saranno Tre date In tre città Differenti Che sono già scelte E saranno solo queste Per ragioni Più Più motivate Per la gioia logistica Importanti Quindi Vi chiedo scusa Se queste città Saranno un po' scomode Da raggiungere Per alcuni di voi Ma Ci stiamo lavorando Da aprile Quindi sono tanti Tanti mesi E Questo è il massimo Che siamo riusciti a fare Questo è il massimo Fattibile per ora Quindi Ecco sì Le date saranno Fa fine febbraio E metà marzo Tre sabati e pomeriggio Fa Fine febbraio Metà marzo Circa E Le città saranno Milano Reggio Emilia E Roma Ho scelto Reggio Emilia E non Bologna Perché Reggio la mia città E Questo mi permetterà Anche di Fare una sorpresa Alle persone Che Verranno a Reggio Perché Sarà molto più comodo Organizzarsi Quindi Quindi Ho scelto Reggio Per motivo Ecco E soprattutto A Bologna Non ho trovato Nulla di Fattibile Per noi Nessun posto Probabile E Adatto all'evento Quindi Mi sono resa subito A Bologna Dopo aver visto Che non trovo Nulla Ok E appunto Saranno In Dei Centri Yoga Abbastanza Grandi Che prendono Comunque Dalle 30 Alle 40 Persone E soprattutto Il più Silenziosi Possibili Ovviamente Trattandosi Di Centri Yoga Non Disperse Nella natura Non si può Avere Il silenzio Totale Però Sono molto Soddisfatta Dei posti Che abbiamo Trovato Questo Assolutamente Sì Creme Idratante E Ve lo dico In questo Video Perché So che Molte persone Stavano Aspettando I biglietti Per Autoregalarseli O regalarli A natale Qualcuno Che ci Tiene E Sappiate Che Usciranno Comunque Ad A natale Quindi Potete Stare Sicuri Che I biglietti Potrete Anche Regalare O Le caratteri Per Natale E Sì Guardate Che già Per fare L'evento A Roma Che è la data Appunto Più a Sud Ho Ho veramente Insistito Tanto E Sono andata Anche a Roma In giornata Per fare Il check Del posto Che andasse Tutto bene Ho fatto Vedate Una ricercona E Ho insistito Tanto Perché Già La mia agenzia Stava dicendo No Chiara Non si trova In Roma Facciamo Solo Al nord E Ho detto No Io Devo Fare una data Più al sud Però Ho detto Io Devo Rimandiamo L'uscita Delle date Perché Io Devo Fare una data Almeno a Roma Devo Almeno fare una data Un po' più al sud Quindi Ho proprio Insistito Io Spero Vi faccio Piacere E Spero Sia Comodo Almeno Per alcuni Di voi Rispetto Alla prima data Che era stato Solo a Milano Ok Cominciamo Con il make up Io ho parlato Appunto Delle città Perché Su instagram Vi ho portato Un po' con me Nella ricerca Dei luoghi Vi ho portato A Roma Vi ho portato A Milano Insomma Io condiviso Un po' di più Del Dietro le quinte Di questo progetto E mi sono arrivate Tante persone Che dicevano Ma a Parino Ma a Napoli No Ma a Che ne so Vicenza No E dicevano Ragazzi Io ve lo giuro Che ho fatto Il possibile Oppure Nelle isole Magari Questo progetto In futuro Diventerà Più grande E riusciremo Anche a portarlo Più lontano Però io non vi assicuro Veramente nulla E già così È impegnativo Per noi Perché comunque È un progetto Piccolino Sono eventi Fatti per Poche persone 30-40 persone Non sono aperte A centinaia di persone Perché sono eventi In cui io mi voglio Dedicare A ogni persona Presente Voglio Abbracciare Ogni persona Chiacchierare Con ogni persona Voglio che ogni persona Si senta Accolta Ed è per questo Che io non lo apro A 300 persone È proprio Una cosa Che voglio io E questo Però porta Il fatto Che è un pochino Più Difficile Da organizzare E da supportare Come progetto Sono io Che le cose L'hanno fatte E come Voglio io Flessibilità Zero Cos'altro Posso raccontarvi Di questo periodo Ah sì Vi volevo chiedere Una cosa Chissà che è arrivato Sveglio Fin qui Però Ma mi amiamo Questo blush Comunque C'è Pixi Che mi sta mandando Tantissime cose Ultimamente Ho provato Questo blush E da quando L'ho provato Sto usando Solo 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 questo Perché è un effetto Iper naturale Su di me Di Guance Di persona Che è stata al freddo Quindi un po' Rosine Tipo raffreddate Bellissimo Io adoro Questo effetto Su di me Comunque E Appunto Ho ricevuto Un po' Di commenti Soprattutto Sotto all'ultimo video Il roleplay Oculista Sono in realtà Due o tre commenti Però io Leggendo tutti i commenti Il don Importanza E due o tre commenti Dicevano Chiara Però Sempre gli stessi video E non avete idea Di quante A parte che da quanto Non portassi un roleplay medico Il video oculista Non lo portavo Tipo da due anni Ho introdotto anche Delle cose che non avevo mai fatto In quel video Se queste persone Che pensano Che io faccio sempre Video uguali Hanno delle idee Da proporre O Mi spiegano Perché Pensano questa cosa Me lo dicano Perché io non ho Questa percezione Però Io non riesco a essere Oggettiva Sul mio canale E il vostro parere Oddio mio No 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 Piano 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 Il vostro parere per me È iper 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 importante Quindi Se Anche voi Avete una critica Del genere Magari da sottolineare Però sviluppatela Quindi dite Chiara Magari Il video Sembra un po' ripetit Potresti provare questo O Insomma Cose così Perché se no Io Mi preoccupo E basta E ci rimango Solo un pochino male Per questi commenti Senza Capire effettivamente L'origine E il perché Del commento Quindi Penso di essere Una persona Che Si apre anche Abbastanza Le critiche Costruttive Le critiche Cattive No Non le accetto Ma come Non le doveste Accettare Neanche voi Vediamo un po' Di illuminante Sugli occhi Cioè Di ombrettino Luminato sugli occhi Diamo un po' Di glow Per questa festa Quindi si Se vedete video Boh Idei Possono piacere Tutto quanto Ditemi pure Semplicemente Per me Lo scopo Dei miei video È quello Soprattutto Di farvi Star bene Di farvi Sentire accolti Di darvi Quel luogo Sicuro Quindi Molto spesso Magari C'è la percezione Che i miei video Siano molto simili Ma perché L'intento È sempre È solo Quello Di farvi Star bene Ci può Essere Anche L'intrattenimento Ci può Essere Quello Che volete Però Veramente Io voglio Che questo Canale Questo posto Ogni volta Che aprite Un mio video Sia un luogo Sicuro Luogo in cui Sapete Di essere Accolti Di non essere Giudicati Quindi Sì Per me È stra Stra Importante Questo Prima di Qualunque Altra cosa Quindi per questo Vi faccio Anche tanti video Di Attenzione Personale Tanti video Di coccole Perché so che A volte Il mondo esterno Può essere Cattivo Le persone Possono essere Nervose Possono Prendersela L'una Con gli altri E qui Vanno invece Che Siamo Menti In cui Proprio Vi sentite Coccolati Quindi per me È Iper Importante Ed è Lo scopo Principale Dei miei Video Quindi Sì Ecco Più che Intrattenimento C'è anche L'intrattenimento Com'è in questo Video Però Prima di tutto Voglio che questo Sia un luogo Una bolla Sicura Per voi Voglio essere La vostra Fonte di Serenità Per me Questo è Importantissimo E La base Di quello Che vedete Ok Mettiamo Della sopracciglia Abbiamo quasi fatto Manca Mascara Matita Labbra I Orecchini Facciamo Il mascara Chissà come Verrà Senza specchi Magari Mi specchia Nel mio cellulare Chissà come Sì, 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 sì Mettiamoci il mascara Ho abbondato con il blush Forse nel video non si nota neanche così tanto Perché ho le luci molto sparaflesciate Qui si nota Ho proprio Ho un attimino Abbondato con il blush Lo faccio un attimo Tamponare la situa, mamma mia Sembra che sia stata tre giorni al freddo Blush blind Blindness Ok Andiamo a metterci il mascara E intanto vi dico un po' L'ultima cosa che vi volevo dire in questo video E cioè che Arriveranno Uno parra due speciali di Natale Uno sarà proprio il video prima di Natale Con uno speciale un pochino più Magico, diciamo così E poi arriverà come l'anno scorso Il video in cui scarto Un calendario dell'avvento Che ho ordinato proprio apposta Per il canale Perché Ha anche un aspetto Molto natalizio Molto carino Molto bello da vedere Ma vi chiedo una cosa Preferireste che nello scartassimo E che lo aprissimo insieme Con io e il calendario di fianco Quindi vedendo Insieme sia il calendario O Con una ripresa in cui si vede solo il calendario Quindi solo le mani e il calendario Ditemi cosa preferireste Cosa vi rilasserebbe di più Perché sono molto 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 indecisa su questo L'anno scorso ho fatto l'unboxing nel calendario Solo dall'alto Però forse dopo un po' risultava monotono Non lo saprei Quindi Ditemi voi Ok No Aspettate Se faccio questo occhio Poi vi dico perché ho detto no Che bello hai preso Io mi ero portata Una tisana calda Da sorseggiare con voi In questa tazza carinissima Non so se rende È un albero di Natale E qui c'è la tazza È bellissima È ancora caldo Quindi direi che apriamo la tisana Visto che oggi è il primo dicembre Ho la tisana Che ho aperto Nel mio calendario dell'avvento Delle tisane L'ho aperto Nelle storie di Instagram Con voi Ed è al Gingerbread Treat Molto speziato Sapete che l'odore Il profumo promette bene Ok Andiamo a mettere In infusione E questo tra 5 minuti Lo assaggio con voi E lo copriamo Con il coperchetto Così rimane bella calda Adoro queste cose Mettiamoci anche L'altro L'altro occhio Mascara sull'altro occhio Ok E Appunto Vi stavo dicendo Arriveranno Due speciali dell'avvento Non voglio esagerare Con lo speciale natale Perché A me piace Che i miei video Siano un po' Usufruibili Tutto l'anno Quindi non solo natale Però L'anno scorso Non ero riuscita A portarvi Uno speciale natale Non ero nel mood Devo essere sincera Non mi ricordo Il perché esatto L'anno scorso Non mi ricordo chi Ci ho provato Per tutto dicembre A trovare un'idea Cercare di mettermi in testa Di fare questo video Ma Mi stavo proprio snaturando Mi stavo Stressando tantissimo Per questo cosa Ho detto No Non ne vale la pena Per un video natalizio Quindi L'anno scorso Non l'ho fatto Ma Quest'anno E Essendo andata anche In Lappone Il villaggio di Poppo Natale Ho preso molto Spirito natalizio Quindi Quest'anno Quest'anno Lo spirito natalizio Per fare un video ASMR Di Natale Ha fatto bene Ok Ce l'abbiamo fatta Ultima cosina Anche se sto per andare a pranzo Non rinuncio Né alla mia tisana Né alla matita labbra Testarda 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 Questa è una matita labbra Della Maybelline Che si chiama Lifter Liner E La numero 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 Zero Quattro Di solito comunque I colori che mi stanno bene Delle labbra Rossetti e cose varie Sono sempre lo zero quattro Ok E' un pochino calda Ma non troppo E' comunque Nude E andiamo Vado leggermente A sforare qui Leggero Leggero Però solo qui Sul largo Dalle altre parti Ok E andiamo a riempire Mi si era scaricata la macchina fotografica Quindi ne ho approfittato per sistemarmi un ottimo le labbra Comunque Comunque Questo è il risultato Mi piace tantissimo Su di me Questo colore E' leggermente Sul di caldo Per me però ancora Lo reggo Secondo me Abbastanza bene E io dovrò mettermi Sì Rossetti Ma dovrò mettermi tantissimo le matite labbra Perché per me mi danno un effetto Non so Mi piace molto il fatto delle matite labbra Non mi seccano così tanto le labbra Ma mi danno comunque una bella colorazione Non so Mi piace molto Andiamo ad assaggiare questa tisana In cui stamperò sulla tazza Tutta la matita labbra Proviamo questo tè Molto speziato Me l'aspettavo Molto più forte Molto più spezzato Invece è veramente Molto molto piacevole Buona Approvata Bene Io spero è questo Get ready with me In cui vi ho Ubriacato Veramente Di informazioni Mi dispiace Vi sia piaciuto Fatemi sapere Cosa ne pensate Di tutte le cose che vi ho detto Di tutte le novità Che ci sono Io aspetto davvero Il vostro commento Un mi piace al video Un Qualunque cosa pensiate Anche se non siete d'accordo Con qualcosa Ditemela Non vi preoccupate Sempre con gentilezza Però mi raccomando Trattate gli altri Come vorreste essere Trattati voi Ok E con questo Di nuovo Rumore Dell'elicottero Dell'aeroplano Io non so che cosa Io direi che Penso proprio Penso proprio Ma penso proprio Si è aggiunta L'ora Abbassare le luci E augurarvi Augurarti Augurare a te 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 Una buona 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 Buonanotte Sognitor Buonanotte 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 Le mie Le mie piccole Tardine A cioccolato fondente Non puoi Un macio Che rispera Buonanotte 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 Buonanotte